Facciamo un bel giretto Per far riscaldare il motore del cambio Apriamo il cofano Andiamo a controllare Qui abbiamo l'astina dell'olio del cambio Va messo il cambio in P Lasciando l'auto in moto Controlliamo l'olio Come abbiamo visto Manca qualche grammo d'olio Adesso andiamo a cercarne un bidoncino E vediamo di rabboccare Dextron 3 Dextron 3 Atfmatic Dextron 3 Io uso questo della Petro Andiamo a rabboccare Prendiamo un imbuto Prendiamo un bel giretto Olio controllato Macchina parcheggiata Chiudiamo il cofano E abbiamo finito E abbiamo finito Grazie per la visione!